ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo strepitoso video e allora oggi mangeremo tutto a base di pesce merluzzo gratinato assaggiamo limone e due fantastiche ostriche di praticamente 10 euro ciascuno appena prese dal pesci vendolo quindi è roba fresca e le molte che lo compro da un pesci vendolo sinceramente lo sembra beccata il ristorante dovrebbero già essere pulite c'è qualcosina quella la togliamo assaggiamo e vediamo un po come sa l'ostrica raga via ci voleva un po di pane effettivamente perché io lo mangio sempre col pane in questo caso mi sa che il pane non ce n'è forse ancora congelato staremo a vedere ragazzi buonissima non vi so descrivere la delizia che non ama le ostriche non lo so veramente spettacolo spero di non zendermi male ma normalmente lo beviamo un po di succo di limone che è rimasto qua ma che cosa stiamo parlando a fare ragazzi venite in sicilia e mangiate l'ostrica commentate qui sotto ditemi che cosa ne pensate ribali un orgasmo galattico e ci vediamo al prossimo video ciao